Anche l'Olimpica Basket non fallisce l'appuntamento con i due punti. Era importante un riscatto deciso dopo la sconfitta onorevole contro Ostuni. I ragazzi di Cesmundo ospitano al Paladileo il Martina Franca, terz'ultima del torneo. Partenza sprint dei padroni di casa con Buono, Cipri, Uovolo, Maresi e Bogliardi che dopo appena tre minuti hanno già un parziale devastante di 18 a 1. Gli ospiti dopo un attimo di sciocca per la partenza inaspettata rientrano nel giro di poco tempo in gara grazie al duo Guai-Ocubo fino a meno uno. La seconda giallo-blu si avvide a Moresi e Buono che portano alla chiusura del primo quarto avanti 28-20. All'inizio del secondo Martina Franca decide di giocare da squadra ed effettua il sorpasso 31-28. Ma tutto il team giallo-blu si scatena e fa tripple d'azioni d'attacco coinvolgenti. Non davano gli ospiti che sentono forte la pressione giallo-blu e all'intervallo lungo archiviano 41-47. La seconda parte della gara è un sosseguirsi di emozioni a tinte forti. Da Falcone a Uopolo a Buono passando per Bogliardi e Maresi con il ritorno in campo di Alvisi a mezzo servizio riprendono in mano la gara e la portano a compimento con un 101-88 d'autorità. Adesso settimana di allenamento in vista della trasparta di Castellaneta nuovamente battuta a Francavilla. Mimmo Siena, Speciale News.